Buonasera a tutti. Oggi affronteremo in questa panoramica dei simboli che state facendo forse quello che è il simbolo più spaventoso della storia recente, il simbolo della croce uncinata o svastica che voi tutti conoscete immediatamente in quanto il simbolo che forse più di tantissimi altri ha contribuito a delle stragi nella storia umana e particolarmente ai milioni di morti che ha causato il secondo conflitto mondiale. Parleremo delle origini di questo simbolo, della sua storia, anzi della sua preistoria e per questo siamo in due. Io, Massimo Vidale e Michele Cupitò, mio collega che è un esperto di preistoria e protostoria europea. Michele si scusa di non poter essere con noi questa sera ma aveva degli altri impegni. Entriamo in questo argomento, d'accordo? Una cosa che forse va premessa è che noi siamo abituati a pensare che il fatto di essere in grado di dare un certo significato a un simbolo ci permetta di proiettare lo stesso significato anche in tempi precedenti e magari in tempi molto più antichi. Non è così. Come qualsiasi altra entità culturale, un simbolo riesce a perpetuarsi nella storia e nella preistoria solo nella misura in cui i significati cambiano. Perché? Perché l'ambiente culturale che utilizza questi simboli non rimane lo stesso attraverso i secoli e tanto tanto meno attraverso i millenni. Quindi i simboli che noi leggiamo adesso in un certo modo probabilmente mille, duemila, tremila anni fa erano letti in un modo completamente diverso. In questo sta la grande difficoltà se vogliamo dell'archeologia simbolica. Ora vediamo un po' di partire dalle origini. Etimologicamente la parola svastica, la croce uncinata, come la chiamiamo in italiano, è una parola sanscrita. Il sanscrita è la lingua della tradizione religiosa indiana classica che cominciò a essere messa in forma scritta in un periodo relativamente tardo, cioè nell'età dell'impero Gupta, del subcontinente indo-pachistano, che va circa dal terzo al sesto secolo d.C. Ma è sicuramente una lingua straordinariamente più antica. È probabile che i primi componimenti in sanscrito, in quello che è il nucleo religioso più antico del mondo indiano, risalgano alla seconda metà, perlomeno, del secondo millennio a.C. Quindi, grosso modo per intenderci, più o meno ai tempi della guerra di Troia. Ma queste sono delle supposizioni che fanno i linguisti, anche se hanno delle buone ragioni per farlo. Torniamo alla parola svastica. È formata da tre parole, su, asti e ca. Su significa bene, buono, fortunato. Asti è semplicemente la versione sanscrita della terza persona singolare del verbo essere, che è est, asti, e ca è un suffisso grammaticale. Quindi, letteralmente, la svastica significa che porta bene, di buona fortuna. Quindi, pensate all'ironia amara di quello che è successo nella nostra storia recente. Ora, perché è successo questo disastro? Perché questa crocioncinata, o Aachenkreutz, in tedesco, questa lingua così soffice, armoniosa, è stata fatta propria da un partito politico che ha unificato politicamente la grande maggioranza dei tedeschi in un folle progetto di conquista e unificazione politica del continente europeo, lo stesso progetto che non era riuscito a Napoleone, e all'altrettanto folle e criminale predisposizione granitica di annientare il popolo e la cultura ebraica. Come è avvenuto tutto ciò? Dobbiamo risalire all'archeologia. Vedete, l'archeologia a volte può essere in grado di determinare delle spinte molto, molto pericolose. Allora, il signore che si vede qui è Gustav Kossin. Kossin era un archeologo tedesco, vissuto fra la seconda metà del XIX secolo e la prima metà del Novecento, il quale si assunse volentieri il compito di usare le discipline preistoriche per creare un'unità originaria della nazione tedesca. Tant'è vero che sul suo libro la dedica suona così, al popolo tedesco come un primo blocco per la ricostruzione della patria, disintegrata sia esternamente sia internamente. dovete pensare che i tedeschi o i prussiani avevano perso la guerra e avevano un fortissimo senso di rivalsa nei confronti di tutto il resto dell'Europa. Il concetto fondante di questo sforzo di Kossin era che fosse esistita una razza ariana, sarebbero stati gli antichi abitanti della Germania, alla base di quella che era l'identità culturale proto-indo-europea. Allora, in queste poche parole che ho detto ci sono riassunte una serie di castronerie inenarrabili dal punto di vista di un antropologo, di un archeologo, a cominciare dal concetto di razza. Il concetto di razza è un concetto che non può assolutamente essere applicato all'essere umano. È un concetto che prevede la segregazione di gruppi di popolazioni che continuano a incrociarsi e interagire tra di loro senza contatto col mondo esterno. L'uomo non è mai stato così, anzi tutto quello che noi vediamo dello sviluppo dell'uomo è una storia fatta di immigrazione e di continuo mescolamento dei patrimoni genetici. Torneremo anche un po' su questo, ma fin da tempi antichissimi torneremo su questi concetti. Una citazione importante dal libro di Kossinna. Il popolo tedesco non fu mai un distruttore della cultura, a differenza dei romani e in tempi recenti dei francesi. Parole profetiche, se vi ricordate, i roghi dei libri che fecero i nazisti. Ora, cosa pensava Kossinna? Pensava che vi fosse una Urmait, cioè una patria, una terra madre comune delle lingue indoeuropee che si sarebbe collocata nel nord praticamente dell'Europa, fra il nord della Germania, la Danimarca e la parte meridionale della Scandinavia sulle rive del Baltico. questi popoli parlanti lingue indoeuropee sarebbero stati gli antenati di tutte le varie popolazioni che in periodi successivi della preistoria europea avrebbero determinato poi le lingue nazionali delle nazioni europee. In che cosa precisamente veniva identificata questa cultura proto-indoeuropea? In un indicatore archeologico preciso, quel vaso che vedete in alto a destra, che sarebbe la ceramica accordata di età neolitica, d'accordo? Quindi Kossinna disse io posso identificare queste popolazioni che sicuramente parlavano le lingue indoeuropee perché loro diffondevano, oltre alle loro lingue, anche questa ceramica non particolarmente bella, come vedete, decorata con queste cordicelle. Ora, ovviamente, le ceramiche sono una cosa, sostanzialmente. I popoli, in senso lato, secondo me non esistono. Esistono delle culture che sono, tra l'altro, il risultato di una visione dall'esterno, di quelle che sono le dinamiche sociali. E certamente nei popoli e nelle culture sono facilmente identificabili con le lingue e tantomeno con un tipo di ceramica. Quindi anche nella costruzione di questa teoria, per quanto semplice e attrattiva possa sembrare a chi non si è mai posto problemi di questo genere, ci sono una serie di errori e di strafalcioni a livello archeologico e antrippologico, veramente notevoli. Di che cosa aveva bisogno Cossinna per sostenere questa costruzione culturale? Di un simbolo che fosse efficace, che tutti potessero riconoscere, facile da capire. Certamente la ceramica accordata non era un simbolo atto a scaldare il cuore delle masse germaniche e quindi bisognava inventarsi qualcosa d'altro. E a questo punto chi entra in gioco? Entra in gioco il famoso Enric Schliemann, lo scopritore di Troia. Qui vedete un articolo che parla proprio di come l'immagine, il simbolo della svastica sia stato risuscitato da Schliemann a partire dagli strati dell'età del bronzo dei suoi scavi nella collina di Isserlich, nella sua riscoperta della Troia America. Secondo il Museo dell'Olocausto di Washington, che è uno dei grandi musei della Smithsonian Institution, nella molla davanti a Campidoglio, la svastica divenne famosa proprio in seguito a queste ricerche. Schliemann paragonò le svastiche di Troia con altre svastiche incise su manufatti preistorici e si inventò che questi sarebbero stati i simboli degli antenati germanici. Oltre a tutto Troia, un po' per il clamore delle scoperte, un po' per l'idea della verifica della verità letterale dei poemi omerici, aveva una risonanza mediatica spaventosa, per cui anche quest'idea della svastica come simbolo delle popolazioni indoeuropee, tra virgolette, ebbe un'ampia risonanza, dove più che in Germania, soprattutto nella cultura anglofona, nella cultura americana e inglese di quel tempo. Dovete sempre tenere presente che i grandi paradigmi, i grandi modi di pensare razzisti si sono sviluppati prima negli Stati Uniti e poi in Inghilterra e poi sono arrivati diciamo in Europa e come voi sapete i tedeschi sono famosi per sviluppare con la massima serietà qualsiasi cosa a cui decidono di applicarsi e quindi queste idee che erano state generate negli Stati Uniti e in Inghilterra vennero poi alla fine portate alle estreme conseguenze proprio dai tedeschi. Ecco il nostro Schliemann, vedete lui trovò le svastiche sulle fusaiole in sostanza usate per filare, erano delle piccole sfere, degli oggetti piriformi il cui scopo era ruotare e quindi non sorprende particolarmente trovarci una croce uncinata il cui significato fondamentale è quella della rotazione come vedremo della rotazione solare. E Schliemann fu molto colpito da queste incisioni che trovava sulle fusaiole a centinaia e anche sulla ceramica e continuò a portare avanti la sua idea. Contò 1800 svastiche su manufatti in ceramica di alcuni livelli dell'età del bronzo di Troia e sottolineandone l'importanza si espresse in questo modo. Tutto ciò che si può dire dei primi abitanti di Isserlich Isserlich è il nome turco della collina dove lui scavo a Troia è che essi appartenevano alla razza ariana come sufficientemente provato dai simboli religiosi ariani trovati negli strati delle rovine. Queste erano pure invenzioni di Schliemann che lui tranquillamente divulgò senza porsi particolari problemi tra i quali la svastica sui suoi vasi sia sulle piccole e curiose terracotte con un buco al centro evidentemente non sapeva neanche che erano dei piccoli attrezzi per filare che sembrano aver forma dei crateri di un vulcano o di una giustra. Ora, da quando Schliemann scavò a Troia quindi diciamo intorno alla metà la seconda metà del XIX secolo fino allo scoppio praticamente del secondo conflitto mondiale la svastica era un simbolo assolutamente innocuo era considerato appunto un simbolo di buona fortuna e per questo non stupisce trovarla in tutta una serie di media gadget, giocattoli materiale pubblicitario del mondo anglofono soprattutto negli Stati Uniti qui potete vedere una bellissima svastica e una poesiola che in un cartoccino di auguri ne declama le proprietà benaugurali abbiamo addirittura i ciondoli pubblicitari della Coca-Cola e della Pepsi-Cola fino agli anni questo avviene fino direi fino all'incendio del Reichstag in Germania quindi fino al 1934 non c'era alcun problema nell'usare la svastica in questo senso la troviamo anche come segno di benaugurante su una lapide tombale e su un'enorme quantità di biglietti di auguri di ogni tipo tutti sottolinano la bellezza e l'importanza benaugurale della svastica come porta fortuna d'accordo? qui addirittura la vedete associata alla bandiera degli Stati Uniti ai trifogli ai ferri di cavallo e a queste sono credo le forcelle dell'osso di pollo quelle che si spezzano a metà quindi a tutta una serie di talismani per la fortuna quello che mi piace più di tutti è il micetto sopra la svastica qui che è proprio carino e qui vedete siamo sempre nel Nord America l'uso amplissimo della svastica che si faceva per le squadre di calcio per i giochi i balli dei bambini pensate come è rapidamente cambiato tutto questo quando quando è cambiato tutto perché sono arrivati i nazisti in pratica ecco questo è un caso particolare particolarmente sinistro questi signori che vedete esibiti nei circhi americani come così delle curiosità divertenti sono degli individui affetti da microcefalia secondaria è una malattia genetica che impedisce lo sviluppo del cranio e quindi comprime praticamente impedisce lo sviluppo del cervello e questi disgraziati individui venivano esibiti nei circhi americani come aztechi si faceva finta che fossero aztechi il motivo per cui c'è la svastica è che la svastica era un motivo ricorrente nelle ceramiche preistoriche del Nord America specialmente della parte e della Mesoamerica soprattutto nella parte del sud ovest degli Stati Uniti ecco qui vedete alcuni manufatti di quel periodo cioè siamo più o meno fra il 1200 1003 1004 dopo Cristo la civiltà del Pueblo e ceramiche che appunto sono decorate con la svastica o con motivi che ad essa si rifanno e l'uso ancora dello stesso motivo in manufatti artigianali sempre della parte sud occidentale degli Stati Uniti quindi il fatto che fosse comunque un motivo usato ampiamente da queste popolazioni in modo del tutto indipendente fece conoscere ampiamente la svastica al pubblico nordamericano ora proviamo a ricostruire la storia per tappe fondamentali riassumendo abbiamo detto nel mondo indiano la svastica è un portafortuna che ha valori di concordia pace armonia e fortuna gli studi sui nativi americani e i loro apparati decorativi fecero sì che questo motivo oltre ad essere rimbalzato un po' dappertutto a livello mediatico fosse quotidianamente accettato nella vita normale degli abitanti del nord america tutto questo concorso a creare una universale popolarità del simbolo quando Schliemann ci mise da parte sua l'idea che le svastiche fossero il simbolo perfetto per l'identità ario-germanica di questi pseudo indoeuropei che avrebbero poi secondo lui fondato secondo lui e così l'identità nazionale tedesca a un certo momento questo insieme di valori attribuito al simbolo si incontrò con cosa con un partito come il partito nazionale socialista tedesco che aveva deciso di cavalcare lo scontento delle classi medie tedesche e senso di frustrazione per le guerre perse rappresentando allo stesso momento l'aspirazione a un nuovo ordine globale cosmico di fortuna pace e armonia e questa è l'origine della a cancro croce uncinata e queste sono immagini che voi tutti avrete già visto il simbolo aveva una potenza espressiva grafica notevole aveva tutti i requisiti per essere ampiamente accettato dalle classi medie e si trasformò presto in un simbolo spaventoso capace di inghiottire in un delirio di sterminio e guerra una parte del mondo ora queste sono frasi che vengono dal libro 1984 di George Orwell chi controlla il passato controlla il futuro è possibile inventarsi delle storie che effettivamente coinvolgono la grande maggioranza delle popolazioni tutti ci credono e scatenano dei modi di sentire e in modo corrispondente appoggiano dei progetti politici da parte di persone senza scrupoli quindi se io mi invento un passato e mi invento che la svastica è il simbolo degli indoeuropei e dei tedeschi posso scatenare delle emozioni fortissime e come faccio a fare questo se io controllo il presente cosa vuol dire controllare le università e gli istituti di ricerca posso inventarmi un passato d'accordo di conseguenza le accademie ricostruiscono un passato questo passato controllato mi permette di controllare il futuro e i miei progetti politici e questo è quello che è successo con questo simbolo ora brevemente i nazisti soprattutto dopo la presa del potere ebbero un fortissimo interesse per la ricostruzione appunto di un'archeologia di una storia e anche di una proiezione mistica del passato della nazione germanica e tutto questo si espresse in questa società che si chiamava Deutsche l'arche sanerbe stuvi zu den gesellschaft für geist sur geschichte cioè l'eredità tedesca degli antenati questa fu un'organizzazione culturale in realtà un'accademia di studiosi gestita direttamente da Henry Kimmler come una parte una sezione dell'ASS nel 1940 e negli ultimi cinque anni del potere nazista organizzava qualcosa come cinquanta diversi istituti di ricerca cosa vuol dire questo vuol dire che centocinquanta duecento accademici i professori ebbero per quegli anni lì dei posti probabilmente molto ben pagati e si misero allacremente a cercare di dimostrare la verità letterale delle teorie di Cossina e degli storici praticamente degli archeologi del nazismo sviluppando allo stesso tempo come voi sapete un forte interesse per le ricerche sull'occulto tutto questo per cosa? Per studiare la pre-storia dello spirito originario della nazione germanica questo è Himmler e come vedete i simboli delle SS si rifacevano alle antiche rune antichi simboli medievali di guerra e cose di questo genere oltre naturalmente alla svastica la Nenerbe appunto doveva dimostrare che la razza germanica aveva questa ancestrale superiorità sopra tutte le altre collettività umane quindi bisognava crearla questa originaria cultura germanica e soprattutto trovare le basi scientifiche della teoria di queste popolazioni tra virgolette ariane che provenienti dal nord Europa avrebbero poi dato origine alla cultura germanica ricordiamoci che tutto questo non parte dai tedeschi ma parte come abbiamo detto dal mondo inglese e dal mondo americano l'idea qual era è che una razza pura di indoeuropei che parlavano lingue indoeuropee provenienti dal nord Europa da qualche punto dal nord Europa avrebbe invaso l'India circa 4500 anni fa perché l'India perché il sanscrito la scoperta del sanscrito alla fine del XIX secolo dimostrava che vi erano dei legami fortissimi fra il sanscrito e il latino le lingue germaniche le lingue neolatine e via dicendo in questo modo questa popolazione di razza pura avrebbe appunto diffuso le proprie radici e creato le civiltà del mondo antico su delle basi razziali chiaramente una serie di assurdità a livello scientifico solo due note storiche Sievers Wolfram Sievers era un colonnello dell'SS era l'amministratore della Anenerbe ed era uno di quelli che facevano esperimenti nei campi nazisti esperimenti genetici e fu giustiziato nel 48 per crimini per crimini di guerra in questo grande interesse antropologico della Germania nazista vi era spazio anche per degli esploratori che di per sé erano esploratori molto seri come Svenedin questo è Svenedin morto nel 1952 era un amico personale di Hitler e venne incaricato da Hitler di cercare la culla indoeuropea non tanto in nord Europa ma in Asia centrale che era un'idea che a Svenedin stava particolarmente a cuore ora è probabile che Edin sia stato manipolato dai nazisti più che essere un vero agente nazista sta di fatto che proprio in quegli anni negli anni 30 praticamente Edin fece numerosissime spedizioni vedete attraverso l'Asia centrale Afghanistan in Dukush e poi in Tibet fino ai confini praticamente attraverso la Mongolia fino alla costa dell'Oceano Pacifico ora cosa cercava Edin? cercava come tutti gli antropologi tedeschi che si muovevano in quel periodo grazie ai finanziamenti della Anne Nerve di dimostrare appunto la la veridicità delle teorie della diffusione della razza pura e soprattutto cercavano questo mitico paese di cui parlavano le leggende tibetane che era il paese di Shangri-La qui vedete come i nazisti erano accolti amichevolmente dai monaci buddhisti del Tibet che allora erano ancora indipendenti naturalmente non avevano ancora visto l'invasione cinese e a questo periodo che se per caso l'avete visto si ispira il film A sette anni in Tibet con Brad Pitt in cui lui sembra così un innocuo buono prigioniero ma in realtà insomma la presenza tedesca in Tibet in quegli anni faceva parte di un preciso progetto politico qui vedete gli antropologi tedeschi che visto che l'antropologia quel periodo basava tutto sulla forma del cranio stanno misurando la lunghezza dei nasi dei tibetani per stabilire la loro affinità con le popolazioni germaniche e qui gli scalatori nazisti sulla cima delle grandi montagne dell'Asia centrale ecco Brad Pitt con un monaco buddista questa è una scena del film naturalmente e questo è il Dalai Lama che Turten Giazzo il Dalai Lama che era sostanzialmente favorevole a quest'opera di penetrazione culturale nazista in Tibet Shambhala ecco cosa cercavano l'idea che vi fosse questa città Shangri-La o Shambhala nascosta in qualche valle del Tibet dove sarebbero state racchiuse tutte le documentazioni e le radici della razza praticamente ariana che avrebbe diffuso poi per tutto il resto del mondo le lingue indoeuropee in questo periodo i nazisti non andarono soltanto in Tibet fecero spedizione in Islanda che era considerata una possibile patria primordiale degli indoeuropei Tibet Kafiristan al nord del Pakistan ma lavorarono anche in Nord Africa in Russia in Iran nell'estremo oriente in Egitto e in Sud America e se vi ricordate questo personaggio del film Indiana Jones il predatore dell'arca perduta rappresenta esattamente questo un archeologo alleato dei nazisti che cerca degli oggetti magici mistici proprio per conferire maggior potere alla forte spinta espansiva praticamente dello stato hitleriano ultima cosa che vi racconto cioè balorde teorie dei nazisti per esempio Hitler se non lo sapete era convinto che la luna fosse fatta di ghiaccio per quello che era luminosa cosa succedeva che tutti i fisici e gli astronomi gli astrofisici del tempo erano tutti ebrei per cui le loro teorie i primi studi in questo campo sulla natura del cosmo e la natura della materia non potevano essere presi in considerazione mentre c'era uno studioso astriaco autodichiarato dilettante che sosteneva che le stelle erano luminose perché erano fatte di ghiaccio teoria che Hitler sembra aver appoggiato e sposato con notevole interesse si pensava che i graffiti delle talle bronzo svedesi fossero le forme di scrittura degli ariani cercavano Shambhala studiavano la musica dell'India e di altri paesi orientali come una prova dell'inferiorità razziale di queste persone perché le dissonanze tonali perché la scala tonale della musica estremo orientale è diversa dalla nostra appunto pensavano che fosse dei simboli dei segni chiari delle evidenze di deficienze mentali in pratica pare che i nazisti abbiano organizzato delle grandi cacce al panda gigante e anche all'uomo delle nevi all'oyeti e cercavano negli stessi testi in sanscrito che tutto dicevano meno che quello l'origine e la prova delle origini nordiche delle civiltà indiane ora in questo ambiente culturale come come è progredita la fortuna della svastica ora già nel 1896 vedete gli archeologi provavano partendo da Troia dove l'aveva trovata Schliemann cercavano di tracciare degli alberi genealogici per far vedere come questo motivo si era diffuso poi in tutte le altre nazioni in realtà dietro a questo schema c'era già un'idea della diffusione delle lingue indoeuropee più che degli assemblaggi archeologici che nel momento e anche prima erano stati pubblicati qui vedete che l'India compare in un momento molto tardo cioè la svastica secondo questo albero sarebbe arrivata in India nel terzo secolo avanti Cristo e poi di qui in altri paesi orientali vedremo come tutto questo sia molto molto lontano dal vero ora la svastica in realtà la troveremo dappertutto è un motivo universale inventato da civiltà culture popoli potete chiamarli come volete in diversi momenti in diversi punti del globo per esempio questi sono tutti i disegni della svastica che partono dall'età del rame dei Balcani fino al bronzer recente europeo quindi diciamo dal 3000 avanti Cristo 3500 avanti Cristo forse anche un po' prima fino al 1200 avanti Cristo e vedete le infinite trasformazioni grafiche di questo motivo me le faccio scorrere così come vedete la svastica spesso si annida o in parte trasformata in questi motivi a meandro però le due cose non sono la stessa cosa come vedremo diciamo che la svastica può essere generata dal meandro ma non coincide con esso ma se torniamo indietro nel tempo la troviamo per esempio in queste ceramiche della cultura di Alhaf stiamo parlando degli agricoltori iranici del sesto millennio avanti Cristo che tutto parlavano ma certamente non parlavano lingue indoeuropee qui siamo in Mesopotamia metà del quinto millennio mille anni dopo la gente continua tranquillamente a utilizzare questo segno dalla Mesopotamia da un certo momento in poi quindi dal 3000 avanti Cristo in poi grossomodo noi avremo la documentazione di una lingua sumerica che non è assolutamente legata a nessun tratto indoeuropeo è una lingua isolata per conto suo come probabilmente erano centinaia di lingue che si parlavano nell'Eurasia di quei tempi qui siamo intorno al 3000 avanti Cristo in Baluchistan e vedete la proliferazione di motivi diciamo a svastica anche se curvilineari piuttosto che angolari e soprattutto 2500 avanti Cristo arriviamo alla civiltà dell'Indo la grande fase di formazione proturbana del bronzo antico nel subcontinente indopachistano in cui la svastica è effettivamente uno dei simboli più importanti torneremo alla fine di questa chiacchierata su questo su questa uso della svastica da parte delle popolazioni del bronzo antico in India ora sempre di più la ricerca archeologica sta facendo uso della dei dati genetici questo viene da un articolo che è stato pubblicato non molto tempo fa che rappresenta l'espansione delle culture cosiddette Yamnaia sarebbero le culture dei pastori nomadi delle steppe fra il quarto e il terzo millennio avanti Cristo che sembrano aver diffuso nei mille anni successivi quindi nel corso del terzo millennio avanti Cristo parte del proprio patrimonio genetico gradualmente verso ovest e verso est allora se voi guardate questo grafico cosa vuol dire la parte nera al genoma di queste popolazioni nomadiche Yamnaia man mano che ci spostiamo verso ovest vedete diventano sempre più diluiti questi patrimoni genetici per cui quando si arriva in Portogallo o nelle isole britanniche già ce n'è la metà o addirittura un quinto un sesto del patrimonio genetico originario di queste popolazioni man mano che si espandono man mano che si diffonde questo modo di vita sempre più diluito diviene il patrimonio genetico di queste popolazioni il fenomeno avviene verso ovest ma avviene anche verso est per cui quando arriviamo vedete in India lentamente questo patrimonio si dissolve fino a scomparire completamente nelle regioni più conservative e più remote praticamente del subcontinente Indo-Pakistano allora ci verrebbe da chiederci bene andiamo a vedere se queste diffusioni questi popoli della steppa effettivamente per esempio hanno diffuso la svastica ebbene no non è vero queste popolazioni hanno una propria ceramica che forse ha dei legami con la ceramica cosiddetta del bicchiere campaniforme che a sua volta è legata alla ceramica accordata di Cossina sono dei vasi decorati per incisione ma queste somiglianze sono estremamente effimere in realtà quando andiamo a vedere i vasi di queste popolazioni delle steppe che cosa troviamo questa è la cultura di Andronovo che in qualche modo è un insieme di culture che si generano dalle culture yamnaia e qui vedete abbiamo sì dei motivi angolari abbiamo sì dei meandri anche dei meandri complessi abbiamo dei meandri complessi che assomigliano alla svastica sì ma diciamo annegati in un numero infinitamente vasto di altri motivi decorativi quindi non vi è nessuna base per sostenere che queste popolazioni abbiano avuto un particolare legame con questa idea della svastica qui inizia la parte del mio collega Michele Cupitò che invece ha analizzato lo sviluppo e la diffusione della svastica nella cultura materiale diciamo italiana e lui ha scritto così seguire la storia della svastica nella protostoria d'Italia è come seguire un fiume carsico va, arriva, scompare vediamo come compare per la prima volta nell'antichità del bronzo del sud fra la Calabria Sicilia e Pantelleria sotto forma di queste piccole incisioni è possibile che il motivo in sé sia anche derivato dal contatto col mondo greco dove sembra essere stata più più diffusa insomma in quel periodo e che quindi la svastica rifletta dei contatti con la penisola e le isole greche compare poi si continua a svilupparsi nella media età del bronzo a metà del quindicesimo quattordicesimo secolo nei cosiddetti marchi con trassegni delle ceramiche delle isole eolie e del promontorio di Milazzo cose di questo genere dei marchi che probabilmente indicano la proprietà del vaso di questi grandi vasi che sono stati trovati a Salina e anche in altri punti delle isole eolie forse sono dei segni tribali che indicano appunto il possesso di queste grandi giare per poter immagazzinare acqua penso o l'acqua rara nelle isole oppure proprio le derrate di cereali successivamente cosa incontriamo nella storia della ceramica italiana la ceramica appenninica cosiddetta che è una ceramica della medietà del bronzo quindi di periodo successivo 1600-1500 e via dicendo qua in uno sviluppo veramente molto intenso di motivi geometrici troviamo il meandro ma non troviamo mai la svastica d'accordo la svastica è totalmente assente delle ceramiche appenniniche anche se il meandro come abbiamo visto vedremo è in grado di generare facilmente il motivo della svastica scendiamo ancora giù nel tempo vediamo la svastica comparire episodicamente presso la popolazione delle fasi diciamo più tardi del bronzo medio fino a arrivare alle culture del bronzo recente questa è la casa ricostruita di broglio di Trevisace in questo contesto troviamo sotto il pavimento della capanna una ciotola con una svastica incisa sotto come se la deposizione di questa di questa tazza sotto il pavimento della capanna fosse un rito di fondazione un'offerta agli dei con questo simbolo della svastica ora è molto probabile che quando compare questo simbolo sia già percepito da queste popolazioni come un simbolo solare perché? perché la svastica ruota perché sembra un evidente riferimento al movimento della nostra stella è probabile ma non è affatto dimostrato bene abbiamo parlato del sud abbiamo parlato dell'Italia centrale d'accordo ma in pianura padana per esempio la svastica non c'è non esiste non si è mai non si è mai trovata né nelle palafitte cioè i villaggi diciamo lacustri né nelle terra mare i villaggi costruiti in terra fortificati nel cuore della pianura padana qui il simbolo solare sembra essere completamente diverso ed è rappresentato qui molto probabilmente da questi simboli a croce a volte segnati con dei punti all'interno delle braccia la croce ruota cosiddetta e in seguito invece continuerà a manifestarsi nelle fasi del bronzo finale quindi all'inizio del primo millennio a.C. in quelle che sono le cosiddette facce sprotovillanoviane sarebbero gli antenati praticamente della civiltà etrusca che si trovano diffusi dall'Etruria all'Umbria alla Romagna fino praticamente al nostro Polesine questo è l'abitato di Sorgenti della Nova che è l'origine della grande città se vogliamo di Vulci e qui troviamo ampie manifestazioni di questa croce uncinata fatta in vario modo a coppella a pettine lo troveremo anche in Polesine a questo punto a partire appunto da queste fasi molto antiche dell'età del ferro sia a Frattesina che a San Martino di Venezia però parte di un complesso decorativo molto più ampio che ingloba diversi tipi di simboli fate attenzione particolarmente a questi perché sono una importante trasformazione della svastica per cui forse possiamo avanzare qualche significato le cosiddette n ramificate questo è il nome tecnico che si dà perché è come una n però vedete partono dei bracci trasversali ortogonali ai bracci maggiori della n qui siamo di nuovo sorgenti della nova questo è uno dei simboli dei disegni più comuni nella ceramica protovillanoviana quindi alle radici del mondo etrusco quale significato potrebbe avere qui siamo a Frattesina vedete esattamente lo stesso segno San Martino di Venezia che è un altro degli abitati più tardo del complesso di siti di Frattesina Villa Marzana nella nelle vicinanze di Rovigo ecco secondo gli specialisti di preistoria e protostoria la n ramificata imiterebbe il cigno e qui si apre tutta una riflessione molto complessa sicuramente abbastanza azzardata ma che io trovo affascinante ok ora questi sono i dischi d'oro che vengono da Gualdo Tadino sono del dodicesimo secolo e qui vedete il simbolo solare al centro ebbene queste queste figure che sono fatte praticamente di archi e di un cerchio con un punto al centro secondo gli studiosi di pre-protostoria sarebbero dal punto di vista della figurazione nel centro una rappresentazione del sole che si praticamente riattacca a quella che abbiamo visto nella pianura padana essere la conformazione grafica del simbolo solare ma in più vedete qua avremo la testa e il becco dell'uccello sarebbero barche praticamente portate da testa di cigno in un'estrema stilizzazione che portano in giro il sole il mito chiaramente al di sotto di una raffigurazione così per quanto schematica sarebbe l'idea che il sole viene portato da un grande carro trascinato da animali che possono essere cavalli ma più frequentemente si tratta di grandi cigni ecco questo è il carro di Trudel in Danimarca in cui il sole viene portato chiaramente da un cocchio solare e allora a questo punto la trasformazione della n praticamente con i suoi bracci si lega se vogliamo alla svastica qui vediamo un simbolo solare di appunto diciamo di derivazione se vogliamo proto-etrusca con queste proiezioni che potrebbero ancora essere teste di cigno volendo e potremmo fare una generale associazione fra la svastica e la n ramificata a proto-medicinio quindi la svastica come sole la svastica come sole portato dai cigni la barca solare trainata dai cigni che porta il simbolo solare della svastica e tutto questo diciamo in modo estremamente astratto ma anche voglio dire estremamente suggestivo sono cose difficili da dimostrare potrebbe rafforzare l'idea della svastica come simbolo solare che deriva dallo sviluppo delle culture della prima età del ferro lungo l'intera penisola ed è per questo che noi poi troviamo questo simbolo finalmente un po' diffondersi un po' in tutta in buona parte della nostra penisola sui vasi della cultura villanoviana ripeto all'origine degli etruschi in infinite varianti repliche e persino nel nostro Veneto nelle fasi più antiche della civiltà testina vedete questo carretto con ruote con un uccello l'interpretazione più comune del carretto pelà sarebbe che come vedete qui non è sarebbe un essere fantastico un uccello a due teste ma invece si può proporre più realisticamente un modello di questo tipo il cigno che porta i suoi piccoli praticamente sulla schiena all'interno di un veicolo che sul petto reca il simbolo del sole ok e per questo motivo nelle prime case principesche della prima età del ferro anche a Padova questa è la tomba dei vasi borchiati dell'ottavo secolo noi abbiamo un proliferare di simboli della svastica probabilmente vedete legati all'idea del carro solare questo è un cavallo questa è la ruota e sopra il cocchio del cavallo con la ruota si rincorrono i simboli della svastica come simboli solari e dilagano diciamo sotto forma di borchette di bronzo sulla superficie di questi vasi quindi questa è parte della storia affascinante che possiamo praticamente ricostruire ma come vedete non si tratta assolutamente di un simbolo legato a una popolazione a una cultura a una lingua quanto a un insieme di suggestioni che possono riverberarsi sempre però intorno a un tema che sembra ripetersi in mille forme il tema del simbolo solare questo è il coperchio di uno dei vasi della tomba dei vasi borchiati visto dall'alto e qualcuno ha suggerito che queste L siano ancora la testa del cigno che gira praticamente quasi come una svastica rotonda intorno alla base del vaso sempre portando con sé il simbolo solare in alto ora tutto questo poi preluda delle trasformazioni ancora più strane queste sono delle gorgoni di settimo sesto secolo quinto anche quella di sinistra in mondo greco e vedete che il corpo si muove si atteggia direttamente come una svastica perché è così per alcuni studiosi la testa della gorgona che voi sapete campeggia sul petto di Atena a celebrare la vittoria di Atena su questo mostro rappresenterebbe in realtà un arcaico legame con un'antichissima divinità femminile del sole di origine preellenica qualcosa di questo genere ma chi può dirlo siamo veramente nel campo delle suggestioni suggestioni che però come forse avrete notato sono infinitamente più interessanti che non pensare che arriva un popolo dall'Asia centrale o dal nord Europa distribuendo a destra e a sinistra svastica come se fossero dei confetti noziali ora se voi digitate simboli indoeuropei su internet vi vengono fuori delle cose così su tutti dei simboli nazisti in qualche modo rivisitati ritrasformati e sono tutti una massa di corbelleria sono tutte reinvenzioni fatte da gruppi di estrema destra che non hanno alcuna verosimiglianza né storica né culturale questa tra l'altro è messa compare come simbolo indoeuropeo ma questa è la bandiera la bandiera della nazione rom la bandiera degli zingari quindi pensate i pasticci che ci sono qua dentro i rom parlano una lingua indiana e sono probabilmente malgrado Hitler li avesse esterminati tutti sono probabilmente la popolazione che più delle altre al mondo può vantare di avere delle origini indiane e in qualche modo pure visto che tendono sempre a sposarsi tra di loro che sono endogami in sostanza vabbè ma questo è tutto un altro discorso diciamo che Hitler ci ha messo del suo a esterminare la popolazione che più di ogni altra era vicina il suo concetto di indoeuropei bene questo abbiamo già visto la diffusione della cultura yamnaia torniamo a farci la domanda ma allora questa svastica rimane qualche minima pur minima possibilità di associarla a delle popolazioni arcaiche dell'età del bronzo come un simbolo privilegiato ovviamente la risposta è no ok l'abbiamo vista comparire presso gli agricoltori del sesto millennio in Iran che parlavano di tutto come ho detto certamente non lingue indoeuropee 3000 anni prima che queste lingue cominciassero a diffondersi e qui vi porto per finire la comunicazione alle isole Andaman queste sono le isole Andaman come vedete sono delle lingue di sabbia quando c'è stato l'ultimo tsunami sono state completamente coperte dalle onde che hanno spazzato via letteralmente tutte le isole perché emergono di pochi metri praticamente dalla superficie del mare gli andamanesi che vedete qui sono le popolazioni più segregate di tutto il mondo indiano e la cosa interessante è che recentemente è stato ricostruito il genoma di un abitante della civiltà dell'Indo una donna da un sito che si chiama Rakhigari gli indiani sono molto attenti a questa cosa è molto difficile fare ricerca genetica adesso perché ci sono molte implicazioni politiche rispetto alla indianità soprattutto quando viene tradotta dal punto di vista del genoma ma la cosa sorprendente è che gli abitanti dell'età del bronzo ma non tanto sorprendente in realtà abbastanza logica gli abitanti dell'età del bronzo delle grandi città del mondo indiano quelli che commerciavano con i sumeri con gli accadi e via dicendo in realtà questa persona ha un fortissimo legame con il patrimonio genetico degli andamanesi per cui diciamo che se c'è una popolazione vivente oggi che può vantare una specie di primogenitura sulla svastica sono questi abitanti dell'isola andaman che certamente non sono né bianchi né hanno gli occhi azzurri né hanno i capelli biondi ecco io mi fermerei qui solo con un'ultima considerazione ricordiamoci appunto abbiamo visto questo simbolo quanti significati ha cambiato i simboli hanno anche un altro potere oltre a quello di travestirsi assumere forme sempre diverse cioè quello di scatenare guerre di simboli e qui vediamo come i gruppi di destra ancora tracciano svastiche sui muri e i gruppi di sinistra si inventano diciamo delle trasformazioni sempre diverse che fanno parte di una vera e propria guerra di simboli ecco concludo grazie mille di avermi seguito spero che insomma questo desti un minimo di interesse e ecco questa è la mia ultima slide grazie mille e vi auguro un buon proseguimento di questa interessante serie di corsi arrivederci grazie grazie mille